Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Fano TV, ben trovati alla rassegna stampa di oggi, oggi giovedì 19 maggio 2022. Cominciamo subito la nostra piccola parentesi mattutina con il santo del giorno, vediamo un santo piuttosto noto anche dal punto di vista letterario, non solo religioso, e Papa Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto, Eremita e Papa, due aspetti che non è stato facile convivere nella vita appunto di questo religioso, era Pietro da Morrone, appunto definito il Papa del Gran Rifiuto da Dante stesso che ne ha trattato le vicende, condusse prima una vita eremitica sui Monti Selvaggi dell'Abruzzo, poi vi fondò una congregazione detta appunto dei Celestini, fu eletto Papa alla morte di Nicolo IV, anche se lui non ne voleva proprio sapere di lasciare appunto la sua solitudine e venire nei fasti, perché quella volta la Corte Papale aveva proprio dei fasti, a Roma. Ebbene, non ne voleva sapere perché si considerava indegno e incapace di amministrare, di gestire la Chiesa, e di lì poco infatti abdicò e al suo posto fu eletto un Papa di un altro carattere, di un altro temperamento, quello di Bonifacio VIII. Insomma, una vicenda che ormai tutti sappiamo, però Celestino V, che è sepolto nella Chiesa dell'Aquila, dove è stato appunto eletto Papa, è un personaggio a cui fare riferimento. Ci ho letto, vediamo subito le previsioni del tempo, diamo un'occhiata appunto alla grafica e vediamo come il tempo si mantiene bello in tutta la regione Marche. L'anticiclone è ben saldo su tutto il territorio, garantisce una giornata stabile e asciutta, con cieli totalmente sereni. Le massime sono in rialzo fino a 28-29 gradi, le minime non scendono più di 14 gradi e sulle coste i venti spirano da una direzione di est e sud-est, mentre sull'entroterra da una direzione di est, insomma da oriente. E oggi apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. Ecco il titolo di apertura. Vediamo un centro storico dimenticato, servono più agenti a piedi. Lo richiede l'Udc, che evidenzia come in prossimità della stagione estiva il centro storico di Fano avrebbe bisogno di un intervento piuttosto radicale di restyling per curare la propria immagine. Ebbene, l'Udc fa una dichiarazione interessante. Quando le cose si lasciano a metà, si vedono appunto i risultati non certo ottimali, ovvero si incentiva l'uso della bicicletta per evitare appunto l'invasione del centro storico da parte delle auto. È uno degli obiettivi che si prefigge l'amministrazione comunale. Ma poi quando non si realizzano i posti, i parcheggi delle biciclette, succede che queste vengono abbandonate un po' dappertutto, davanti alle chiese, davanti ai monumenti, davanti ai palazzi storici. E questo certo non depone per la qualificazione dell'immagine cittadina. È appunto su questo aspetto che interviene Pollegioni, che è il segretario di questa lista, la lista dell'Udc, che evidenzia appunto questo aspetto da rimettere a posto per quanto riguarda il centro storico. Invece una buona risoluzione è stata intrapresa dal vice sindaco Cristian Fanesi in ordine ai lavori delle scogliere di Metauriglia, frutto di un incontro, abbiamo visto anche ieri, frutto di un incontro con gli operatori balneari e i residenti appunto della costa sud del fiume Metauro. Siamo contenti, hanno detto questi ultimi, che i lavori procedano spediti, senza intoppi, e nulla abbiamo da obiettare, aveva scandito Sonia Campanelli del Circolo Albatros. Lavori spediti, quelli che sono stati organizzati sia dalla Regione Marche che dalle ferrovie dello Stato per tutelare insomma il litorale di Metauriglia per un lungo tratto dove l'erosione si faceva importante e le scogliere che erano state realizzate non difendevano più a dovere il litorale. Erano scogliere troppo vicine alla massicciata ferroviaria e quindi non erano più efficienti per quanto riguarda il loro compito. Ed ora veniamo ad una notizia di cronaca impressionante, veramente drammatica questa notizia. Il cane al guinzaglio si rivolta al padrone, è un cane lupo, morsi e ferite, un 62enne in gravi condizioni portato all'ospedale di Torrette. È accaduto ieri nella pineta di Ponte Metauro. A un certo punto il cane, appunto un esemplare di otto anni, insomma piuttosto in forza, si è rivoltato contro il padrone, lo ha azzannato ad un braccio al torace, gli ha provocato delle profonde ferite, la moglie non è riuscita a fermare appunto l'animale. E' veramente, se l'è vista brutta, un esercente fanese di 62 anni che è stato appunto azzannato appunto dall'animale. è accaduto ieri intorno alle 14.45 appunto in questa zona verde e retrostante il santuario di Madonna Ponte. Sono arrivati poi i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero che ha trasportato il ferito al più attrezzato ospedale di Torrette di Ancona. E poi vediamo un'altra denuncia per quanto riguarda un aspetto da rimediare nella nostra città è quello della rotatoria di Tombaccia, la rotatoria che posta all'incrocio tra la statale Adriatica Sud e la strada provinciale che porta a San Costanzo. Rotatoria stile giungla, il brand Fano, perché in questo mezzo della rotatoria c'è questa grande sigla, questo grande brand che evidenzia il nome della città di Fano con alcuni simboli che ricordano l'arco di Augusto avvolto nell'erbaccia. Insomma, quasi non si vede più e infatti in questa fotografia vediamo come l'erba è cresciuta in maniera rigogliosa e spontanea, tanto da dare un'impressione di trascuratezza. E poi passiamo invece alle vicende politiche dell'entroterra. Ormai sono vicine le elezioni e per quanto riguarda terre roveresche, dove si dovrà eleggere il nuovo esecutivo, c'è un confronto a distanza tra i due candidati. Sebastianelli e Marcucci si parte e sfida incrociata tra i candidati. Campagna elettorale al via, oggi il sindaco uscente, Sebastianelli, si presenta a Barchi, invece il suo concorrente è atteso a Orciano. Ebbene, la lista numero uno condividiamo. Sauro Marcucci, candidato, primo cittadino, dà appuntamento questa sera alle 21 nella sala consigliare il castagno di Orciano. Invece, uniti per riunire terre roveresche, alla cui guida c'è il sindaco uscente, Antonio Sebastianelli, si presenta sempre stasera alle 21 nel salone dell'ex scuola San Bartolo nel municipio di Barchi. Marcucci ha scelto la sede ufficiale dell'avversario uscente, non a caso, insomma, ciascuno va a pescare nel serbatoio elettorale del proprio avversario. Vedremo come andrà a finire. Cediamo la pagina e vediamo a Pergola. L'ufficio tecnico comunale distrutto colpa dell'attuale amministrazione. Lo evidenzia il gruppo di opposizione Pergola nel cuore. Perso il ruolo capofila, l'ha ammesso anche la sindaca Guidarelli. Insomma, il gruppo di opposizione Pergola nel cuore denuncia come l'ufficio tecnico sia stato smaltellato. La passata amministrazione, dice appunto il gruppo di opposizione, aveva lasciato l'ufficio in piena efficienza con un ingegnere quale capo settore e con il personale dedicato all'urbanistica. Invece adesso tutto è cambiato. Insomma, l'ufficio tecnico è stato quasi azzerrato, ha perso il capo settore e non c'è più alcun tecnico che si occupi dell'urbanistica. Questa è un po' la denuncia che fa il gruppo di opposizione. E vediamo invece cosa ci dice il giornale per quanto riguarda la pagina, la pagina, passiamo dalla pagina regionale prima della pagina pesarese e vediamo una vicenda drammatica, una vicenda che fa riflettere, purtroppo, che tocca la coscienza di tutti noi. L'appello disperato di Fabio è l'appello disperato di Fabio. Da 18 anni costretto a letto lo Stato mi aiuti a morire. È stato colto all'età di 28 anni da una effrazione dell'arteria nel cervello. Si è rotta appunto questa arteria e non può più muoversi. Comunica soltanto con il movimento degli occhi. Pensate cosa vuol dire passare 18 anni mobile nel letto senza avere un minimo di autonomia. Si tratta di un 46enne di Ferminiano che chiede il suicidio assistito dopo i marchigiani Mario e Antonio. La mamma di questa persona dice per comunicare ha soltanto gli occhi, ma ad Enzo pensa solo ad andarsene. Ebbene, è un caso di coscienza a cui purtroppo ancora non è stata data una risposta. In tutto, nelle Marche sono stati evidenziati tre casi. Mario, l'attesa è quasi finita, dice appunto l'Avvocato Filomena Gallo che è il segretario dell'Associazione di riferimento Luca Coscioni. La battaglia sulle fine vita è iniziata qui. forse questo ha dato la forza ad Antonio a Fabio. E poi ognuno nella sua coscienza giudichi e consideri la vicenda di questa persona. Insomma, ovviamente chiedere di morire è una decisione veramente drastica che ognuno deve considerare nel proprio intimo. Passiamo ad altre notizie. E le grandi rebus dell'estate, chef e camerieri introvabili sono quei posti di lavoro che a fronte ad una carenza di posti di lavoro non vengono occupati. È una contraddizione che appunto contrasta questa estate e il dopo Covid anche se il Covid è ancora presente. I lavoratori stagionali nelle Marche stanno diventando sempre più rari. La CNA mancano candidati o non hanno una preparazione adeguata. E per questo appunto gli operatori turistici i proprietari dei ristoranti degli alberghi si trovano in grosse difficoltà perché il lavoro è precario. Il lavoro è soltanto di qualche mese. La gente non se la sente appunto di assumere questo impegno qualche volta la risorsa del reddito di cittadinanza e questo ovviamente fa sì che chi ha voglia di lavorare se la fa un po' passare. Sottomonte aprono i parcheggi limite 30 orari sull'Adriatica. La questione dei parcheggi è importante soprattutto per la stagione estiva quando le nostre coste si rimpopolano di tante persone che giungono da tutte le regioni d'Italia quasi la popolazione raddoppia e raddoppia anche il numero delle auto che circolano nelle nostre strade. Ebbene per quanto riguarda Pesaro la questione dei parcheggi è delicata e delicata e vediamo appunto come l'amministrazione comunale intende organizzarsi confermate dall'amministrazione comunale in collaborazione con Adria Bus le cinque linee di bus e navetta ovvero sono quelle di San Decenzio Viale Trieste San Decenzio Sottomonte Mare Notturna Porto Baia Flaminia e Riviera del San Bartolo sono bus e navetta che fanno la spola appunto tra le aree di sosta e i luoghi di destinazione da sabato 21 maggio ovvero da domani da domani l'altro sono aperti gli spazi di sosta a Sottomonte ex Cpa è imprevisto vicino all'omonima cooperativa per un totale di 160 posti auto invece dopo pochi giorni dopo l'11 giugno si aggiungeranno anche quelli previsti dal parcheggio dell'istituto Santa Marta prima di Pesaro presto arriveranno anche i 1200 posti auto scusate i 200 posti la I è stata cambiata per un attimo per un 1 i 200 posti auto di Villa Marina e da questo fine settimana si potranno parcheggiare auto moto e scooter anche sulla statale 16 nella zona crista tra Fano e Pesaro prima di arrivare appunto al cavalcavia di Pesaro e poi c'è una sorpresa che evidenzia il corriere adriatico via Fratti è stata riaperta in anticipo è stata riattivata la circolazione alla rotatoria di via Belgioioso ed è una cosa che non capita sempre e veniamo al tribunale in tribunale si è discussa la causa dell'omicidio di Natale un omicidio che ha suscitato sensazione un uomo infatti un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 61 a coltellate era geloso e l'ho fatto appunto per gelosia pensate lei era una cuoca in un ristorante e il marito pensava che se la intendesse con il proprietario di questo ristorante probabilmente non era affatto vero anzi certamente non era vero comunque si sta celebrando un processo lampo perché l'imputato era confesso lui ha ammesso tranquillamente tranquillamente è un eccettivo sbagliato lui ha ammesso diciamo di aver ucciso la moglie e il PM ha chiesto una condanna a 24 anni di reclusione e tra una settimana ci sarà la sentenza l'imputato è Vito Cangini ottantenne tre ho confesso dell'omicidio della moglie Natalia Kirchok di 61 anni Ucraina cuoca in un ristorante a Misano e poi i carabinieri hanno trovato in un capannone di Villa Fastigi un capannone adeguato a serra per la coltivazione della marihuana nell'ex capannone la serra della droga e con le bollette della luce da capogiro veramente 91 mila euro di luce pensate quanto costava a questi coltivatori la coltivazione della canapa ma in realtà poi il reddito era molto ben superiore un capannone di Villa Fastigi quasi abbandonato è stato rinvenuto dai carabinieri con una forte coltivazione una pingue coltivazione di canapa indiana insomma della droga ebbene c'era una coltivazione intensiva la cui crescita e maturazione poteva essere tanto veloce quanto rigogliosa grazie a tutto un sistema artigianale ma molto efficiente di illuminazione ventilazione climatizzazione irrigazione e riscaldamento quindi era tutto ben congeniato ebbene sono stati imputati due giovani uno di 25 anni l'altro di 35 quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine vediamo un attimo come è finito la vicenda il 25enne ha patteggiato a un anno e dieci mesi con pena sospesa il 35enne invece ha due anni di reclusione la staffetta VL Tecnocasa sarà un lavoro da cronometro è stata raggiunta l'abbiamo già detto nei giorni scorsi in intesa per fare realizzare i due eventi la convention di Tecnocasa e la partita della VL il presidente di Aspes Pieri montaggio appena finita la partita insomma terminerà una manifestazione subito dopo si preparerà il Vitifrigo Arena per la manifestazione per l'evento successivo stamattina c'è un sopralluogo e poi una bella e radicale opera di arredo per quanto riguarda la qualificazione dell'asse viario via Passeri Curiel un nuovo salotto per la città lo evidenzia l'assessore Pozzi che annuncia come l'amministrazione comunale abbia detto sì al progetto i lavori saranno assegnati entro l'autunno si tratta di un progetto firmato dall'architetto Matteo Ascani in concerto con i progettisti del comune un salotto tutto nuovo per il centro così è stato definito e poi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi degli asili Nido di come appunto questo servizio del comune si è molto apprezzato dai genitori che lavorano ovviamente anche d'estate e quindi un punto di riferimento dove sistemare i loro bambini i centri estivi però ci sono problemi perché i consiglieri di opposizione Marchionni e Andreoli criticano le scelte del comune troppi i quartieri dimenticati ci sono quelli che hanno questo servizio e quelli che non lo hanno e quindi devono percorrere qualche distanza per raggiungere le strutture che sono state messe a disposizione e veniamo ora al resto del Carlino vediamo la pagina di Fano dove l'apertura è dedicata al fatto di cronaca del cane che si è avventato sul padrone e l'ha azzannato il padrone gravissimo questo appunto è l'aggettivo usato dal Carlino picnic nella pineta di Ponte Metauro si trasforma in un dramma un meticcio di taglia media azzanna un 62enne davanti alla moglie l'uomo è stato morso all'addome trasportato a torrette con lesioni al torace quindi azzannato al corpo grosso e poi una bella iniziativa del Rotary Club di Fano che dona alla città quattro defibrillatori semiautomatici che verranno sistemate in quattro punti strategici del centro storico si tratta della del Pincio della zona del Pincio della zona di Rocca Malatestiana di Piazza Costanzi e della stazione ferroviaria ricordiamo che in Piazza Costanzi non molto tempo fa si è verificato un infortunio una persona si è sentita male e se avesse avuto il defibrillatore a portata di mano insomma la questione sarebbe stata risolta prima di quanto invece si è risolta poi e qui è una novità per quanto riguarda le cantiere della Wider che dovrà essere realizzato in zona Porto nell'area assegnata alla cantieristica ora un'area incolta nei pressi della passeggiata dell'esippo ebbene arriva all'ok del ministero il governo ha giudicato l'intervento come un impatto paesaggistico medio e non sarà richiesta la valutazione di impatto ambientale ora la parola passerà alla regione Marche per un parere tecnico mentre la valutazione della sopraintendenza delle Marche sarà successiva alla presentazione del progetto vero e proprio in quanto appunto la sopraintendenza intende verificare come questo capannone di considerevole altezza il doppio di quello appunto previsto in precedenza verrà realizzato insomma vuole vedere il progetto con tutte le proprie linee a terre roveresche si parla del caro bollette povertà noi in prima linea ed è una previsione programmatica che viene dibattuta anche in sede elettorale appunto qui in questo articolo abbiamo come questo problema venga posto in evidenza all'attenzione ad Urbino invece l'università ritorna all'antico ora gli esami si faranno in presenza non so se è un bene o un male per quanto riguarda gli esaminandi in Ateneo saranno pochissime le eccezioni si allarga dunque la morsa anche per le tesi di laurea da 10 a 20 persone potranno assistere a questo evento importante nella vita di ogni studente a Urbino dunque gli esami universitari tornano in presenza la decisione era già stata presa ma ora i vertici dell'Ateneo l'hanno ufficializzata comunicando tutte le specifiche del caso agli studenti per la sessione estiva per esempio gli iscritti alla Carlo Brò dovranno sostenere le varie prove nelle rispettive sedi salvo rari e specifici casi e poi dobbiamo riferire di un lutto di una persona nota anche nella città di Fano ma direi anche in tutta la provincia è deceduta Silvia Coppini una storica dell'arte una critica dell'arte un insegnante dell'arte insomma una persona appassionata del bello ma soprattutto della interpretazione del messaggio che gli artisti vogliono dare eseguendo le loro opere è scomparsa all'età di 79 anni conosciuta in città per il suo impegno in campo storico artistico sviluppato nel corso della vita in varie forme il sindaco Gambini ha espresso il cordoglio della città la sua intensa attività legata al mondo dell'arte della cultura ha detto ha arricchito e vivacizzato negli anni il tessuto sociale di tutta la provincia il funerale sarà oggi alle ore 14.45 in Duomo ad Urbino veniamo anche a qualche pagina di Pesaro per quanto riguarda il resto del Carlino vediamo che anche qui molto spazio è stato dedicato al caso di Fabio paralizzato sul letto da 18 anni il suo appello straziante fatemi morire addirittura ci sono due pagine dedicate appunto a questa vicenda vediamo qui la seconda giriamo pagina e veniamo anche sul Carlino al processo contro Vito Cangini l'accusato del delitto nei confronti della moglie Natalia uccisa con 12 coltellate era ossessionato dal tradimento ecco perché le cause di questo è ferrato omicidio e poi via Passeri via Curiel ecco l'asse verde nuovi alberi e arredi una migliore regolamentazione dei parcheggi è stato provato il progetto definitivo il dettaglio degli interventi viene evidenziato da questo articolo e soprattutto lo ha curato lo ha evidenziato l'assessore Riccardo Pozzi che appunto viene fotografato qui in via Curiel e poi il buon esito dell'asta delle Capannone della Berloni che è stato venduto a oltre 4 milioni di euro se ne è giudicato un immobiliare ma sullo sfondo di questa offerta c'è anche una società dell'entroterra un prezzo è stato rialzato secondo la base d'asta del 40% insomma una offerta considerevole si è passati da 2 milioni 900 mila euro a 4 milioni 200 mila euro in tre erano a concorrere l'immobiliare Bruce N di Via del Monaco che alla fine si è giudicato il grande immobile quindi un altro immobiliare legato alla famiglia Strapazzini che opera nel settore automotive e la società BRX di Montelabate che opera nel settore della refrigerazione insomma è un capannone che ha fatto gola a diverse imprese e se l'è aggiudicata appunto la Bruce N di Via del Monaco rimozione dell'amianto nell'ex AMGA in questa area così disastrata così problematica dal punto di vista ambientale operazione sicura e in tempi rapidi lo assicura l'assessore all'ambiente Edy Morotti che fa il punto nei giorni dei lavori ha detto l'assessore chiederemo ai residenti di tenere chiuse le finestre e di non stendere i panni perché le fibre dell'amianto sono molto molto volatili sono piccolissime quasi invisibili ma se vengono ingerite creano molti problemi alla salute sono fibre insidiose perché i loro effetti si vedono dopo molti e molti anni ma sono veramente letali ebbene con questa notizia non certo rassicurante però con le dovute precauzioni si può evitare il tutto terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e come sempre per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera con occhio alla notizia il TG di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci